L'Auser di Sartirana, presa ad esempio dal Vaticano per la sua opera di servizio e accoglienza. La presidente della sezione sartiranese dell'Associazione per l'Invecchiamento Attivo, Giancarla Paninza, è stata invitata alla conferenza stampa di presentazione del messaggio di Papa Francesco per la giornata dei nonni e degli anziani in programma il 24 luglio. Unico esempio italiano citato in quella sede, Auser Sartirana ha ricordato il suo storico impegno nel paese lomellino, aggiungendo il racconto di quanto accaduto a seguito della guerra in Ucraina. Nella piccola realtà che rappresento, in un territorio caratterizzato da un indice di invecchiamento pare al 420%, i volontari e le volontarie anziani con più energia sono a servizio dei grandi anziani, delle famiglie fragili, delle persone con disabilità e accompagnano a scuola i bambini che abitano lontano dal paese, nelle cascine. Con lo scoppio del conflitto, l'Auser di Sartirana si è stretta nel sostegno della famiglia di Caterina, Ucraina da tempo residente in paese che in queste settimane sta ospitando i suoi cari, fuggiti dalla guerra. Tra loro c'è Anna, che proprio in Italia ha partorito dando alla luce Iris, nome che in lingua ucraina significa arcobaleno. Iris è nata prematura, è stata ricoverata per qualche tempo a San Matteo di Pavia. La comunità ha aiutato i familiari a starle accanto. Nonna Caterina, vedendo l'opera dell'associazione, ha chiesto di diventare a sua volta socia Auser. Per la piccola sono stati raccolti culla, lettino, vestitini, alimenti, ma Caterina è una persona con una grande dignità. Spesso rimanda a Auser gli aiuti perché li faccia arrivare in Ucraina, dove ce n'è più bisogno. I volontari hanno accompagnato Anna in visite prenatali e ora accompagnano la nonna a visitare la piccola in incubatrice al Policlinico di Pavia. Per fortuna è uscita in questi giorni dall'incubatrice. Poi un giorno Caterina si è presentata in Auser e ha detto di voler diventare socia, la nostra prima socia ucraina, il vicepresidente di Auser, che ha 88 anni, si è candidato a diventare il nonno italiano di Iris. Vorremmo che Iris e tutti i bambini e i ragazzi che fuggono da tutte le guerre potessero avere gli stessi diritti dei bambini italiani, ma oggi non è ancora così. Anche per questo, per tutte le persone che soffrono e che sono sole, senza distinzione di etnia, vogliamo concorrere alla rivoluzione della tenerezza, la rivoluzione disarmata di cui parla Papa Francesco.